A Roma si chiamano Cornetti. I Cornetti, rifacendovi la sveglia di ieri mattina, quanto sei scaramanti? Mazzola, l'hai pagata così tanto? No, c'è qualche signora che si è lamentata, ma gli uomini un po' meno. Sì, perché sono pigri. Io arrivo ai 8 alla penedina, se una volta arrivate ai 10. Non dargli la parola a tutti, tutti, tutti però.